buongiorno ragazzi 806 del 20 di si vede gennaio e appena finito di fare colazione sto leggendo l'altro libro devo essere sincero non è che non do mai credito a questi libri sul gestire il proprio io the path to your professional success starts with a critical look in the mirror una cosa molto introspettiva e gli do una chance ho cominciato a leggerlo da due giorni gli do una chance allora come abbiamo dato una chance ai mercati che andiamo a vedere ok allora avevamo lasciato questa notte la chiusura dell'esp ii a 3.000 e 90.000 790 ora sembra che stia spingendo già come c'è da mettere target vediamo chiaramente come ho già detto in passato lo ripeto fino a quando il terreno non è chiuso non è chiuso e questo è un mantra di vita sostanzialmente è un mantra che dovete tenere con voi stretto non ve lo faccio pagare tranquilli perché si dice che io faccio pagare tutto quanto assolutamente sì fottutamente sì perché io non faccio nulla per nulla per il semplice fatto che per insegnare a fare trading ragazzi dovete avere della qualità massima e la qualità la pagate è molto semplice penso che sia giusto penso no ok lo fareste anche voi sicuramente e la favola del buon samaritano sinceramente lasciamola un po perdere perché dai buoni samaritani non quelli per quelle stesse persone che vi facevano studiare gratuitamente poi avete scoperto che avevano l'accordo con il broker e vi facevano avere il conto con il loro broker affigliato e allora il broker affigliato sul vostro conto gli caricava 300 dollari e 300 euro all'oro e poi tutti quanti i rebates quindi tutte quante le commissioni che generate eccetera 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 quindi poi alla fine pagate pagavate come questo non è un'industria dove non si fa nulla per nulla ma lo dico in maniera molto sincera ok però appunto per questo è giusto almeno chiarirsi l'idea su come funziona e capire a chi affidarsi detto chiudendo questa piccola parentesi e ecco la situazione dei 8.09 è questa oggi ci sarà l'insediamento di biden ok appunto il 20 quindi vediamo quello che sarà il decorso della giornata e adesso devo scappare immediatamente a fare delle cose e quindi poi aggiorneremo la situazione più avanti allora sono arrivati in ufficio mi piaceva un attimo osservare una cosa no come gestisco le mie giornate adesso è la tredicesima se non la dodicesima sessione questa è la tredicesima sessione che sto analizzando dall'inizio di quest'anno ma chiaramente vedremo che il pattern si ripeterà spesso nel corso del tempo perché fa parte proprio del mio modo e della mia routine del mio modo di gestire il lavoro e della mia routine no e questo è anche un un assist che faccio agli imprenditori che giustamente si domandano che questo è un mestiere che si può fare si può ammettare già con quello che si fa può convivere con quello che già si fa e vedete che comunque io gestisco in maniera quasi fedela a quella che potrebbe essere la gestione di un imprenditore perché un imprenditore ha degli impegni durante la giornata io ne ho altri tanti perché alla fine ragazzi sono un imprenditore il trading è imprenditoria ma vi dà la possibilità di poter gestire tante altre attività imprenditoriali perché vi ho già detto che il trading deve essere comunque come qualsiasi altra attività deve essere comunque messo in parallelo ad altre ad altre cose è ovvio nel frattempo il mercato sta c'è stato un breakout sono 9 46 e vediamo insomma ancora non siamo a target e fino a quando il mercato non ci dirà che siamo a target non chiuderemo la nostra posizione parzialmente tra l'altro però detto questo scusatemi assolutamente la risposta comunque a questo quesito quindi questo assist che voglio dare assolutamente sì un imprenditore deve poter gestire il trading perché un imprenditore ha sicuramente degli spazi durante la giornata magari se li crea nei quali può gestire il trading e il trading non è qualcosa di impattante almeno il nostro modo di concepire il trading non è così impattante io se dovessi veramente sommare il tempo in cui sono davanti ai mercati forse forse due ore nelle quali però un'ora sono costretto tra virgolette essere davanti ai grafici e quando faccio live con i miei studenti il pomeriggio dalle tre e mezza alle quattro e mezza mi posso assicurare che ci sono alcune giornate dove io controllo solo con controllo solo con il mio con il mio smartphone sostanzialmente perché perché magari il mercato non si trova in determinate fasce di prezzo interessanti e non ho bisogno di di dover stare lì di fronte a un grafico senza senza motivo quindi l'assist che voglio dare per farvi capire anche la mia routine giornaliera perché sto facendo questo anche per per darvi appunto un'impressione no un feedback ecco a voi che si sta vi state domandando sì si può gestire ma come posso fare ma come non posso fare io veramente di rado sono in ufficio dove mi mettete perché magari sto in giro per l'italia e per gestire anche altre cose che ho e questo lo documenteremo è chiaro adesso ci siamo in una fase di lockdown quindi un po tutto si è rallentato però però insomma andremo a vedere ad analizzare anche questo nel frattempo appunto come dicevo poco fa il mercato sembra che ha fatto un breakout ma sembra già che lo stia recuperando quindi è ancora la strada è ancora lunga e vediamo insomma tutto come si andrà a sviluppare ok quindi tutto questo lo vedremo più avanti momento di studio è arrivata la nuova lampada ma è arrivata con cioè ti spediscono una cosa ma paghi anche 200 euro senza le batterie vabbè tecnicamente cambia colore e cambia anche colore in maniera perpetua nel frattempo si studia e poi il canale sta crescendo una marea sono molto contento e per gli invidiosi per coloro che dicono ma tutto questo è assolutamente un photoshop ecco adesso vediamo siamo in reale ragazzi nel mercato si trova dove più o meno l'abbiamo lasciato prima ok quindi finisco di studiare devo tornare in ufficio vediamo come gestiremo la posizione e manca un'oretta e venti all'apertura dei mercati speriamo bene allora anche se non è ben messa a fuoco poco mi importa perché ho fatto in fretta e in furia stavo registrando parte di un altro di un altro prodotto formativo sono le 14 e 29 spero che si veda e siamo in prossimità del target ecco praticamente il target è stato sfiorato è stato sfiorato di due tic quindi sono arrivato a due tic dal target principale succede qualcosa cambia qualcosa devo modificare qualcosa assolutamente no ecco questa cosa importante voluto un attimo analizzare questo momento proprio perché è giusto no capire anche in queste fasi come funziona perché in molti molto probabilmente stanno già in panico perché il target non è stato eseguito perché la vostra situazione di trading e quindi il vostro target non è stato raggiunto e cominciano a smanettare uscendo prima uscendo dopo ecco il discorso è ben diverso non si può ragionare in questo modo soprattutto se si ha una strategia nella quale effettivamente il target che verrà messo è un target strutturale ovvero ok non ci arriva va benissimo vuol dire che ci arriverà più tardi se non ci arriva adesso non è questione di sfortuna vuol dire che adesso il mercato non vuole soddisfare quella zona e lo farà dopo e non è un tirare testa o croce è imparare a lavorare con la struttura del mercato e questo ragazzi fidatevi continueremo a sentire queste parole continuate a sentire da me queste parole perché dal mio punto di vista è fondamentale ora vediamo un attimo se nelle prossime nei prossimi due minuti mi eseguo il target insieme lo facciamo insieme sono le 14 e 31 nel frattempo non ci sono dati tra l'altro oggi tanto market mover non ci sono tranne che appunto oggi ci sarà il tutto quello riguarda l'insediamento di Biden però è ovvio che ora sono le nuove 30 in america alle 12 dovrebbe parlare tra le 12 insomma dovrebbe parlare Biden appunto per l'insediamento ma è semplicemente una pura formalità che però sicuramente come dicevo già ieri ad oggi i mercati accettano accettano bene ok quindi vediamo un attimo diamogli un altro minutino per vedere se lo raggiunge oggi in questo momento insomma mentre siamo insieme di dati non ce ne sono e come ho fatto vedere prima il canale youtube sta crescendo anche grazie alle persone che stanno vedendo questo vlog che spero che stia aiutato anzi ragazzi commentate mettete like fatemi sapere cosa ne pensate se c'è qualcosa che posso migliorare a livello di comunicazione e di cosa posso far vedere che può interessarvi e quindi in modo tale da poter aggiungere valore a quello che secondo me è già un bel prodotto pieno zeppo di valore allora ragazzi semmai eventualmente è probabile anche che non lo possa raggiungere in questo momento il target qualora non lo facesse dobbiamo metterci l'anima in pace però insomma semmai ci aggiorneremo dopo e niente volevo fare semplicemente questa diciamo questa fotografia al momento che stiamo vivendo appena finito il workout come è andato secondo voi questo trade? a tempo io e la mia luce vi salutiamo come è andato questo trade? allora diciamo così smetto un attimo di registrare da qui intanto vi do un'anticipazione se riesco spero che si veda sono le 18 e 14 ok e passiamo sull'altro screen eccoci qua 18 e 14 abbiamo finito è stata bella è stata una bella cavalcata scusatemi se mangio non sono affamato allora 4187,50 dollari cominciamo a specificare che non è il profit è il profit dell'intera operazione considerando anche le perdite quindi da il 14 abbiamo avuto un trade in perdita di 4.000 che abbiamo chiuso abbiamo partizionato ricordatevi bene andatevi a vedere la cronostoria di questo trade avevamo un trade che era long del quale abbiamo dovuto scaricare una parte di posizione prendendomi una perdita di 4.800 dollari per poi integrare nuovamente quello che avevo tolto qui integrarlo qui e aggiungere tra l'altro altro lottaggio quindi diciamo che la somma di tutto questo deal che è partito appunto dal 14 di dicembre alle ore 18 e 49 più o meno e si è concluso oggi alle 15 e 30 sostanzialmente appena ha aperto il mercato è un deal che ci ha approfittato 8187 dollari da inizio mese siamo oltre da inizio mese siamo oltre e vi dico ragazzi accounts performances siamo oltre i olle 11.600 dollari quindi questo questa è la performance da inizio mese 11.600 dollari da inizio mese quindi questo è stato un trade che ci ha fatto guadagnare 8000 dollari e ragazzi ecco primo caso studio l'ho definito così ed è effettivamente un caso studio utilizzate queste info per capire realmente come funziona la vita di un trader non è sempre stare dietro un grafico ma non è nemmeno stare sempre a non fare nulla ok di questi ne vedremo tanti altri più difficili meno complessi con più profitto magari con più perdita potenziale è solo inizio it's just the beginning ok ragazzi vi auguro una buona serata ci vediamo nel vlog di domani ps non farò nient'altro perché sta per essere annunciato Biden eccetera 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 quindi diciamo che adesso starò a guardare ok